E' stato un weekend molto difficile, non era appostissimo con la moto, peccato anche per la ripartenza non ci voleva, ero terzo prima della ripartenza, secondo me Barier non riusciva a prenderci, era importante arrivare davanti a lui, non ce l'abbiamo fatta, però pazienza Il nostro campionato è ancora lungo, sono seconda, solo 10 punti, mancano ancora 6 gare E niente dai, weekend così così, tutto sommato dai, data benino, ciao a tutti